Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale, benvenuti ragazzuoli al terzo episodio su Call of Duty Black Ops 3 Oggi signori sarà un episodio speciale perché andremo a giocare a Nuketown, la mappa speciale che hanno inserito in questo gioco Che è essenzialmente un remake della mappa già esistente su Black Ops 2 Dunque signori questo è tipo il terzo quarto tentativo di registrazione che faccio perché ogni volta, ogni danadissima volta trovo una lobby di merda Gente idiota che non sa giocare, io non sono forte, ma Cristo se tu giochi a dominio perché usi la stessa tattica che usi a deathmatch a squadre? Per questa mappa ragazzi ho intenzione di utilizzare la mitaglietta leggera Vesper che per quanto mi riguarda anche, cioè la stessa cosa valeva anche su Black Ops 2 Una mitaglietta leggera su questa mappa è sicuramente molto più efficace di un fucile d'assalto insomma Tranne che questa mitaglietta ha un rinculo di Cristo, muoviti a caricare, mamma mia che caso, che caso, che cazzo ho fatto E vabbè, questo mi ha arato malamente Comunque vi dicevo ecco, una cosa che hanno aggiunto che sicuramente l'hanno adattata rispetto a Nuketown di Black Ops 2 E' il fatto che su Black Ops 2 non potevi camminare sui muri, mentre qua si doppia uccisione e non sono riuscito a fare la tripla Quindi hanno adattato questa mappa alla modalità di gioco di Black Ops 2, cioè di Black Ops 3, vaffanculo Ragazzi, io sto riscontrato un problema in questo gioco Mi sto rendendo conto che la connessione ai server online è molto, molto lenta e soprattutto problematica Ma che cazzo è? E vi dico questo regà perché ho spesso notato che per giocare online ho dovuto riavviare il gioco almeno una volta E poi voi mi dovete spiegare perché i punti di spawn nemici sono vicini a quelli nostri Dai regà, non ci credo Ok, penso che l'abilità speciale su questa mappa sia un po' inutile Ok, è ora di cambiare arma Mi spiegate perché io spawno e c'è il nemico davanti? Regà, che ballo Cioè, voi di due non siete riusciti a ucciderlo Dai regà, non è possibile però Assist Assist, solo assist Regà, allora parliamo No, parliamone davvero perché non è possibile A parte che mi hanno fatto la killcam e va bene Ma parliamone Cioè, questo mi ha sparato da dietro i muri Cioè, parliamone A parte che mi hanno fatto la killcam e va bene A parte che mi hanno fatto la killcam e va bene